Assessore, allora anche i centri estivi si affacciano fortunatamente a un nuovo periodo? Sì, dal 3 al 14 maggio saranno aperte le iscrizioni per i centri estivi comunali del 2021, un passaggio importante dopo un anno difficile per il mondo della scuola, ma quest'anno saremo in grado ancora una volta di garantire dei servizi di altissima qualità e anche con dei numeri importanti, 80 spazi per l'infanzia e 40 spazi per il servizio di nido a 0-3 anni. I servizi saranno aperti dal 5 di luglio al 6 di agosto, dalle 7.30 alle 18 per i servizi di nido e dalle 7.45 alle 18 invece per i servizi di infanzia. Le iscrizioni, come dicevo, si apriranno il 3 di maggio e si concluderanno il 14, le iscrizioni sono online sul portale del Comune di Fano, quindi comune.fano.pu.it, ma è possibile anche rivolgersi, se ci sono necessità, anche di informazioni direttamente agli uffici dei servizi educativi del Comune di Fano, ai numeri verdi 887 608 e 887 611.